Innanzitutto diffondiamo la massima tranquillità e non lo faccio perché così deve essere fatto ma perché è l'assoluta verità che da noi i sistemi di controlli funzionano abbiamo attuato circa 8.000 controlli all'inizio anno come Ministero delle Politiche Agricole difendiamoci anche dagli allarmismi e dalle psicosi perché poi si traducono ovviamente in disastri da un punto di vista commerciale